questo dolcissimo volpino di soli otto mesi l'abbiamo chiamato carrubo ma tra noi lo chiamiamo bubu è dolcissimo questo piccino peserà un 8-9 chili non di più vagava per le strade del mio paese in pericolo naturalmente per le macchine che sfrecciavano e per tutti i malintenzionati che potevano maltrattarlo perché comunque i cani per la strada non sono graditi qui danno fastidio a molti così ce l'hanno segnalato e l'abbiamo preso non potevamo lasciarlo assolutamente questo piccino lui si vede che è stato in famiglia si vede che qualcuno per un po lo ha illuso e poi lo ha abbandonato ha lasciato proprio che uscisse in custodito per la strada facendolo sicuramente apposta finché non tornasse più e noi non abbiamo la minima intenzione di farlo ritornare in quella brutta famiglia qualsiasi essa sia noi per questo tesoro vogliamo la migliore delle famiglie una famiglia veramente che lo consideri come un figlio che lo tratti bene lo protegga e lo curi perché lui è di questo che ha bisogno ma di affetto soprattutto piccolo carrubo si distrae piccino adesso sta qui su questo piano alto e ha paura è vero carrubo che paura tu soffri di vertigini ora ti facciamo scendere non ti preoccupare cucino adottatelo non lasciatelo qui in canile sentite che baccano che c'è spaventano tanto i cagnolini piccini come lui buona fortuna piccolo ciao carrubo ciao ciao